Non lo so, purtroppo è la brutta notizia della giornata, spero nulla di grave, comunque si è piantato, si è girato col ginocchio, spero non sia nulla di grave, comunque volevo fare il mio bocca al lupo da parte mia di tutta la squadra, spero che l'esito sia così più possibile. Vedendo la partita ci si aspettava un match maschio, così è stato, un'autentica battaglia che Dvarez ha fatto sua di rabbia e di passione diciamo. Sì, aggiungerei anche della qualità, noi abbiamo fatto un grande primo tempo con grande qualità, lo abbiamo giocato bene, il campo ci ha permesso di giocare molto bene, siamo stati bravi nel fraseggio, nel palleggio, abbiamo creato la numerica sugli esterni, siamo stati molto bravi a creare, anche diverse occasioni nella rete, non abbiamo subito granché nel primo tempo, c'erano qualche palla buttata lì dentro l'area, abbiamo protetto bene la porta, sono veramente contento, oggi è una partita difficile, loro sono una squadra molto forte, in casa loro hanno perso solo una partita e poi arrivano da tre sconfitte consecutive, perciò oggi vincere qua è una grande prova di maturità. In Parese tra l'altro non subisce gol per la prima volta in trasferta? Sì sì, è una giornata, ha tolto purtroppo notizia di stampi, è una giornata super perché è veramente prestazione eccellente, abbiamo sofferto nei minuti finali dove loro hanno iniziato a battere questi palloni dentro l'area, abbiamo protetto la porta bene, sono stati eccellenti oggi, ovviamente devo fare un applauso ai miei giocatori, ma mi sento anche di dire che queste vittorie arrivano comunque da due pareggi dove la proprietà ha dimostrato tanta esperienza, c'è stata vicino, ci ha fatto i complimenti a Vado, i nostri tifosi ci sostengono anche in casa quando abbiamo pareggiato, c'è questa fiducia qua, da forza che poi noi portiamo in campo, noi è essenziale, è fondamentale avere i tifosi qua oggi, è stato stupendo, non ce l'aspettavamo neanche, ma veramente è una vittoria che dedichiamo loro perché se lo meritano con tutto cuore. Grazie a tutti i cristiani.